200 ai pali sinistra 3 sinistra 3 in destra 4 lunga 200 vai vai simone destra 4 lunga 200 all'albero sinistra 5 sinistra 5 50 sinistra 4 50 destra 4 50 attenzione al palo sinistra 3 taglia apre sinistra 3 taglia apre 200 200 alle zebbre destra 2 apre alle zebbre destra 2 apre 150 150 vai verde sinistra 1 più 100 sta in centro e attenzione sinistra 3 chiude per inversione sinistra per inversione sinistra sinistra 2 vai sinistra 2 gira scende e destra 5 subito sinistra 2 destra 5 subito allo stop sinistra sinistra 1 al cartello destra 2 destra 2 200 destra 6 in sinistra 6 50 attento alle zebbre destra 2 sporca destra 2 sporca per sinistra 5 destra 5 e sinistra 6 dopo ponte e subito alle zebbre sinistra 2 taglia sporca 150 all'alberi agli alberi aggancia destra 3 in sinistra 3 aggancia destra 3 in sinistra 3 alle zebbre destra 2 taglia sporca in sinistra 2 taglia molto sporca sinistra 2 taglia molto sporca per destra 2 non tagliare 40 attenzione alla casa sinistra 2 e dopo 200 vai vai all'arancio un shikan sinistra shikan sinistra destra per sinistra 4 lunga e alle zebbre destra 3 apre allo stop appoggio sinistro sinistro per destra e sinistra 2 ricorda 100 sinistra 6 attenzione alle zebbre destra 3 in sinistra 2 taglia in destra 2 taglia apre in sinistra 3 taglia al cartello destra 3 entra in rotonda sinistra 3 terza uscita in destra 4 più sporca più sporca più sporca vai in sinistra 5 300 vai simone alla siepe stacca e alle zebbre destra 3 non tagliare sconnesso per sinistra 3 gira 200 alle zebbre destra 3 sfiora apre 200 al 200 si muore al pallo sinistra 3 50 e alla casa video sinistra 2 gira non tagliare 100 al pallo destra 6 cieca e attenzione subito alle zebbre destra 2 taglia sporta destra 2 taglia sporta 150 al cartello stai al cartello sinistra per sinistra 1 cieca sinistra per sinistra 1 cieca destra 6 400 merendo